Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il paesologo e poeta Franco Arminio, già candidato sindaco di Bisaccia, si è dimesso da consigliere comunale per motivi di lavoro. Lo ha intervistato il mattino. Una delle domande. Nella poesia Italia mia lei parla di furbi e farabutti. A chi si riferisce? La risposta sono categorie che non stanno né a destra né a sinistra e l'Italia disattenta al bene comune. Siamo un paese dove molti non si preoccupano dell'altro ma pensano solo a sé. C'è una gran cultura del farsi i fatti propri. Cosa dire? Arminio è decisamente distante anni luce dalla categoria dei farabutti, ma quando a quella dei furbi la sua italianità è altrettanto fuori discussione.